Ciao a tutti e bentornati sul canale del vostro amichevole chimico di quartiere. Nella foga di rispondere al video virale sullo zucchero credo di non aver spiegato bene alcune cose e mi sono anche reso conto, leggendo i vostri commenti, che ci sono alcuni equivoci puramente linguistici che dovrebbero essere eliminati. Richiamiamo però prima che cosa vi ho raccontato l'ultima volta. Punto 1. Il saccarosio, il comune zucchero da tavola, è bianco, è naturalmente bianco. Punto 2. Il saccarosio bianco si estrae indifferentemente dalla canna da zucchero o dalla barbabietola da zucchero. La molecola è la stessa, uguale, precisa, identica, ok? Non fa alcuna differenza dal punto di vista chimico e non fa alcuna differenza ovviamente nel nostro corpo. Circa i tre quarti dello zucchero bianco che si ottiene al mondo proviene dalla canna da zucchero. Punto 3. Lavorando sia la canna da zucchero che la barbabietola da zucchero otteniamo una miscela che contiene sia saccarosio sia un liquido scuro, molto aromatico, che si chiama melassa. La melassa di barbabietola da zucchero fa schifo, è salata, l'ho assaggiata, pessima. La melassa della canna da zucchero invece, questa qui che ho comprato, è aromatica, è buona, ha un buon odore, un buon aroma, ricorda un po' la liquirizia, ha un odore speziato, quindi io posso decidere se estrarre e purificare completamente il saccarosio e ottenere quindi lo zucchero bianco, oppure, visto che ha un aroma gradevole che può piacere a qualcuno, fermarmi prima nel processo di purificazione e quindi posso ottenere degli zuccheri che hanno, oltre al saccarosio che è sempre preponderante, molto spesso è al 95%, ma anche al 96, 97, 98, 99% un residuo di melassa. Quindi normalmente quello che voi trovate in commercio, nelle bustine la mattina, come zucchero di canna, proviene dalla canna, perché altrimenti sarebbe una frode in commercio scrivere zucchero di canna quando invece proviene dalla barbabietola, però è semplicemente saccarosio con un po' di melassa. Cioè non è che esiste la molecola di zucchero di canna che è marrone e la molecola di zucchero di barbabietola che è bianco, è sempre la stessa cosa. E veniamo al punto che più ha creato confusione, come si capisce leggendo alcuni commenti. Io non ho voluto dimostrare che lo zucchero colorato che c'è in commercio è fabbricato a partire dal saccarosio più melassa. Io vi ho fatto vedere il processo inverso di quello che avviene in uno zuccherificio normalmente. Cioè quello che voglio dire è che la melassa è già dentro, non ce la devo aggiungere. Quando estraggo il succo della canna, lì dentro c'è già la melassa. Io ne tolgo poca e posso ottenere uno zucchero variamente colorato. Se la tolgo tutta ottengo uno zucchero bianco. Il punto però è che sempre sono saccarosio più delle impurezze, che normalmente non hanno nessun tipo di valore nutritivo. Noi le vitamine, i sali minerali, così normalmente li prendiamo altrove nella dieta, non certo dello zucchero. Anche perché noi consumiamo troppo zucchero. Dobbiamo diminuirlo. Dobbiamo diminuire tutti gli zuccheri. Ecco perché io mi incavolo molto quando sento a volte dei medici o dei nutrizionisti sul web o in televisione che dicono ah, lo zucchero bianco è un veleno, fa male, dobbiamo ridurlo o eliminarlo, e invece decantano le proprietà dello zucchero di canna, e dicono la mattina usate lo zucchero di canna. Ma col cavolo, questa è una grande fesseria. Noi dobbiamo ridurre tutti gli zuccheri, perché le quantità di nutrienti che contiene sono assolutamente insignificanti. Invece abbiamo qui questi guru e questi nutrizionisti che a parer mio dovrebbero ridare indietro la laurea che decantano le proprietà nutritive dello zucchero di canna. Non è così. Dovrebbero fare una specie di laurea punti ogni volta che qualcuno dice una fesseria gli si toglie dei punti come per la patente quando arrivi a zero deve ridare certi esami perché veramente non si spiega perché facciano certe affermazioni. Basta leggere sulla tabella nutrizionale degli zuccheri che comprate e vedete che la quantità di nutrienti è assolutamente insignificante. Eppure la mattina, quando vado a far colazione, vedo spesso delle persone che nel caffè o nel cappuccino, dovendo scegliere tra lo zucchero bianco e lo zucchero di canna, si mettono lo zucchero di canna e va bene, magari piace il sapore, però poi si prendono la brioche di farro integrale ricoperta di cristalli di zucchero di canna e farcita con del miele, che è una bomba calorica. Ed è pericoloso questa idea di far passare per migliori o sani tutti quegli zuccheri che sono variamente colorati, perché noi dovremmo ridurli tutti. Quindi è disonesto suggerire che se io mi faccio una torta con dello zucchero muscovado dentro invece che dello zucchero bianco in qualche modo sia più sano e quindi posso sfondarmi. Chiarito questo, c'è da chiarire alcuni equivoci linguistici di cui io mi sono accorto, che in realtà sono molto diffusi, e riguardano i termini grezzo, integrale, raffinato e lavorazioni generico. Cominciamo dal primo che è il più facile, grezzo. Allora, alcune persone pensano che grezzo significhi non lavorato, incontaminato, non toccato da mano umana. Questo è sbagliato, non è così. La lingua italiana non dà questo significato al termine grezzo. Vado da un falegname e vedo un tavolo grezzo, vedo comunque un tavolo con le gambe e così via, sgrezzato, non vedo un tronco di legno. Non però portato, diciamo, a fine lavorazione. Quindi, quando noi leggiamo sull'etichetta Zucchero grezzo di canna, vuole semplicemente dire che lo zucchero non è stato portato fino a purificazione completa, quindi rimangono delle tracce di melassa. In più c'è da dire che grezzo non è un termine normato dalla legge. Non c'è una normativa di legge che prescrive che lo zucchero grezzo debba essere così, 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 debba contenere questo, questo, non debba contenere questo e quest'altro. Non c'è, non c'è nella normativa. Si intende quindi normalmente, nel linguaggio comune, qualche cosa che non è stata portata a purificazione completa. Vediamo il secondo termine, raffinato. Se io dico raffinazione, a molte persone automaticamente vengono in mente, non so, impianti petroliferi e cose di questo genere, immagini che normalmente noi non associamo a quello che mangiamo, quindi negli ultimi 50 anni il termine raffinazione ha subito una trasformazione del significato e ora gli viene dato un'accezione negativa. In realtà il termine raffinare vuol dire purificare e una volta era utilizzato nel linguaggio comune con un'accezione positiva, un qualche cosa di raffinato era un qualche cosa di elegante, di piacevole, non qualche cosa di cui avere paura. Quindi raffinare vuol dire solamente purificare, togliere qualche cosa. Raffinare qualche cosa non vuole dire necessariamente rovinare l'alimento, peggiorarne le qualità. Pensate all'acqua che bevete in casa. Beh, se siete fortunati e magari vivete in montagna potete magari bere dell'acqua che arriva direttamente da qualche sorgente d'alta montagna. In altre zone d'Italia, meno fortunate, l'acqua viene prelevata magari da un fiume, magari da un lago. Io nel mio ufficio bevo acqua che arriva dal lago di Como e ovviamente noi non possiamo bere l'acqua così com'è, dobbiamo trattarla, normalmente non si usa il termine raffinarla perché non viene venduta al commercio, però quello che si fa è un trattamento delle acque per togliere delle cose che potrebbero potenzialmente farci male oppure che potrebbero dare dei gusti che non sono accettabili nell'acqua. Quindi trattare qualche cosa, fare un trattamento che può essere di tipo fisico, chimico, biologico, non necessariamente vuol dire andare a peggiorare la qualità, anzi nel caso dell'acqua ovviamente la migliora. Nel caso dello zucchero parleremo in un altro video dei trattamenti che vengono fatti, perché sono un po' complicati, vanno spiegati bene, magari se riesco faccio anche un esperimento qui davanti alla telecamera. Ah, tra l'altro a proposito non è una telecamera, dovreste avere notato, spero, che la qualità delle immagini è un po' migliorata, perché ho cambiato cellulare, per cui adesso dovrebbero essere un po' meglio i miei video. Quindi il termine raffinato vuol dire purificato. Perché invece ha assunto un significato di questo genere? Beh, ma perché in alcuni casi il prodotto raffinato ha delle caratteristiche, per esempio di tipo nutrizionale, diverse. Per esempio nella farina, la farina raffinata e la farina integrale, e adesso veniamo all'altro termine, hanno un contenuto diverso, perché in un caso ho le fibre, tutte le fibre della crusca, nell'altra le ho tolte quasi tutte nella farina, per esempio 00. Veniamo al terzo termine, al terzo equivoco linguistico. Il termine integrale ha senso ed è normato dalla legge solo in alcuni casi. Non esiste nessuna legge di etichettatura alimentare che stabilisce che cosa vuol dire integrale. Non vuol dire prendo una cosa così com'è. In alcuni casi questo ha il significato intuitivo e lo rispecchia. La farina integrale è quella che trattiene la maggior parte delle fibre presente nel chicco, e quindi c'è una tabella che stabilisce alcuni parametri che la farina integrale deve rispettare. In altri casi però il termine integrale è un termine che usiamo noi, nel nostro linguaggio quotidiano, ma senza che ci sia una corrispettiva legislazione o regolamentazione che stabilisce esattamente e rigorosamente cosa vuol dire. Per esempio vi faccio il caso del sale integrale. Voi pensate che il sale integrale sia semplicemente acqua di mare fatta evaporare? Ma neanche per idea. Otterremmo un qualche cosa schifoso, amaro. Il sale integrale è acqua di mare che ha subito una serie di purificazioni, una serie di raffinazioni, fino ad arrivare ad avere cloruro di sodio quasi puro, solo che nello stadio finale non viene, per esempio, lavato e quindi rimane un po' umido nel sacchetto, e poi nel sale integrale non si può aggiungere degli agenti antiglomeranti come invece a volte vengono aggiunti, che ne so, i salini di sale bianco. Ma... ma questo è tutto. Nel caso dello zucchero è ancora peggio, nel senso che nella legislazione che regola il commercio dello zucchero, che in Italia è il decreto legislativo numero 51 del 2004, tutte queste cose qua poi ve le metto in descrizione come al solito, le fonti, le fonti sono importanti, non c'è menzione né dello zucchero grezzo né dello zucchero integrale. Integrale, se vogliamo, è la canna, non lo zucchero. Siccome tutti gli zuccheri sono una miscela di saccarosi e melassa, potremmo dare il significato di a tutta la melassa presente nelle prime fasi di lavorazione. L'ultimo equivoco linguistico deriva dall'uso del termine lavorazione. Ho visto alcuni commenti che dicono in pratica sì sì, vabbè, tu ci hai detto che gli zuccheri colorati sono saccarosio più melassa, però da quello che so io lo zucchero bianco viene trattato, viene lavorato, ed è questo che ne danneggia le proprietà e che lo rende nocivo. Qualcuno mi ha anche fatto un'analogia con, per esempio, le carni trasformate, i salumi, no? dicendo, vedi, si prendono le carni e si fa un trattamento e quindi si ottiene un qualche cosa che è addirittura cancerogeno. L'errore qui è pensare che il trattamento in sé, la trasformazione, sia pericolosa, indipendentemente dal risultato. Quello che conta non è la trasformazione, ma quello che ottengo. Vedremo più avanti in qualche altro video, sennò veramente sto qua a parlare due ore come Fidel Castro dei Tempi d'Oro. La domanda che ci possiamo porre è se esiste dello zucchero non bianco, diciamo così, in commercio prodotto a partire da zucchero bianco più melassa. In alcuni paesi, come negli Stati Uniti, per esempio, si può prendere lo zucchero bianco, si può prendere un po' della melassa che è stata tolta, e la si riaggiunge mescolandola ottenendo uno zucchero ambrato di colore molto molto chiaro, che non ha praticamente più aroma, come quello che noi mettiamo nelle bustine. È tecnicamente possibile. Di sicuro non posso ovviamente chiamarlo zucchero di canna se lo zucchero bianco di partenza è stato ottenuto dalla barbabietola, è una questione però puramente normativa, non è una questione diciamo di tipo nutrizionale, perché come vi ho detto è esattamente la stessa cosa. Se voi andate a vedere al supermercato le tabelle nutrizionali del Demerara, del Tropical, di tutte queste confezioni di zuccheri molto chiari, hanno il 99% o anche più di zuccheri, cioè di saccaroso, quindi non sono dietetici. Per esempio, molti prendono lo zucchero di canna al mattino perché pensano erroneamente che sia dietetico, ma no! L'unico zucchero dietetico è quello che non si mangia, e noi mangiamo troppi zuccheri. Quindi se pensate che potete diminuire di peso sostituendo lo zucchero bianco con lo zucchero di canna, anche fosse il mascovado, ma no, cioè non esiste. Va bene? L'unico zucchero dietetico è quello che non si mangia. Io so che molti di voi sono interessati a vedere e a capire che tipo di lavorazione viene fatto allo zucchero, e questa è una cosa di cui parleremo in un prossimo video. Non parleremo solamente di zucchero in questo canale, ecco, però vedo che è un argomento che interessa molto. Quindi per ora il vostro amichevole chimico di quartiere vi saluta. Alla prossima volta. Grazie. Grazie. Grazie.